Buongiorno, nuova giornata, nuova avventura. Facendo un piccolo recap, questo è il villaggio dove sto allocciando. Fino adesso sono salito su quella cima lì due volte, poi sul vestione là in fondo in nevato ieri e oggi nuova avventura, seguiremo il corso del fiume Langtan e ci addentreremo nella vallata. Questa gita non era in programma, però il primo giorno che sono arrivato qui nel villaggio, la padrona della guest house, mi ha detto che qua ai nepalesi, quando si sposano, vanno da qualche parte in questa vallata che c'è un posto bellissimo e già lì mi ha incuriosito. Poi ho parlato con un paio di persone che sono andati e mi hanno detto guarda cammini per 3-4 ore e troverai un posto bellissimo, ora io sono davvero curioso e quindi andiamo a vedere. Ho appena incontrato un ragazzo nepalese che sta tornando dal posto in cui voglio andare, ho detto che sono ancora a 6 km e gli ho chiesto ma come faccio a capire che sono arrivato, c'è qualche struttura, c'è un lago, c'è qualcosa e mi ha detto no, non c'è niente. Guarda il tuo orologio, quando sei ad altitudine 4.220 e ti trovi il ghiacciaio della montagna che sta comparendo adesso, che viene giù di fronte a te, sei arrivato, quindi molto alla buona. C'è uno ghiac che mi sta guardando cattivo. Ah, c'è paura, eh? Scappa, fifone! O comunque, raga, non ho ancora trovato uno ghiac che si faccia carezzare come si deve. Sono tutti timidi. Guarda, eccolo qui. Ciao, bello. Buongiorno. No, ti prego, non andartene anche tu. No! Che timidoni, che timidoni che siete. Ma vengo in pace, raga. Sono pure vegetariano. E raga, io sto in fissa con questa montagna qui. È qualcosa di non bellissimo, di più. Stare l'ora a guardarla, come guardare le fiamme del fuoco la sera. Sono quelle cose che non stancano. È ora della prima merenda. Buon appetito, che potrebbe essere anche un pranzo. Metto le mani avanti, ho poco cibo e pensavo fosse più vicino a questo posto, quindi non so se ci arriverò. Quindi Mirko del futuro, non rimanerci male nel caso, ok? Fa parte del gioco. Ci sono una decina di stambecchi e hanno il pelo molto lungo rispetto a quelli italiani, ma il fischio che fanno è lo stesso, quindi sarà la stessa famiglia, presumo. E che belli. Altro punticello. Buongiorno. Sei il primo che non scappa. Grazie. Apprezzo molto. Sperando non mi carichi, resto qui un po' incazzoso, ho intravisto lo scheletro. Mi domandavo se sarà morto per causa naturale o se hanno qualche predatore. Chi lo sa. Qualche predatore che potrebbe attaccare anche a me. Attenzione, suspense. Aggiornamento. Io ero più o meno a un chilometro da qui, in quel pratone. Stavo pensando di fermarmi, però poi nella mappa sul telefono ho visto che c'è una lingua di un ghiacciaio che dovrebbe sbucare proprio dietro a questa collina. Io ho visto anche che c'è un sentiero teoricamente che fa il giro largo, quindi io l'azzardo taglio dritto per dritto qui e in 500 metri dovrei sbucare al ghiacciaio. Speriamo. Se no devo comunque poi tornare indietro di corsa perché è già quasi l'una. Vamos. Purtroppo le tracce degli scarponi di esseri umani le ho perse più o meno di sotto perché facevano il giro largo. Pazienza. Dai che è lì. Io direi che questa non si è messa qui da sola quindi qualcuno è passato prima di me. Raga, intravedo un bastone o qualcosa di sollevato di piantato terra quindi penso che lì in cima passa il sentiero. Civiltà. Qui c'è il sentiero. Scoppiamo in dialetta se ne basta la pena o se non c'è nessun ghiacciaio intorno indietro la testa bassa andiamo. Grazie. Raga al momento mezza inculata perché forse qua c'era la lingua di un ghiacciaio. Niente ragazzi abbiamo provato. Probabilmente la lingua inizia più su ma parecchio più su e devo rientrare adesso perché è l'una quindi ora ritiro tutto corro e tiriamo le somme poi al villaggio. peace. Eccoci qua finalmente arrivati in guest house ragazzi che fatica tour della guest house è arrivato il momento iniziamo dal tetto senza paratie qui c'è una camera con un bagno adibito insomma andiamo dentro guardate che bello la vista dai balconi poi ecco qui siamo al piano superiore dove c'è alla mia sinistra qui la cucina ma per privacy non invadiamo e poi qua c'è la stanza da pranzo tutto il legno qui c'è la stufa che viene accesa la sera quindi questa è l'unica stanza riscaldata di solito mi piazzo sempre qui con vista sugli acciaio là in fondo poi proseguiamo andiamo giù 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 allora la prima chicca che vi faccio vedere scusate vi faccio vedere è il bagno allora questo è il bagno del mio piano dove purtroppo l'acqua alluminato non c'è quindi voglio usare quello sotto abbiamo le docce con l'acqua calda addirittura però raga qua ci saranno 5 gradi quindi io non me la sento mi laverò quando poi torno giù a quote più basse turca e qui l'acqua è da roversarci dentro poi 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 room number 8 eccoci qua nel mio regno di questi 5 giorni tavolino con un po' di roba appoggiata attrezzatura vestiti e qua il mio lettino devo dire che con sacco pelo e copertone si sta da dio non si patisce assolutamente il freddo anzi anzi poi abbiamo la vista al tramonto sul paese poi siamo scesi di un piano qui c'è il bagnetto dove invece l'acqua di robinato funziona ecco ci sono altre stanze e poi si esce direttamente nel cortile vista montagne diamo che uno sguardo da fuori e facendo un paragone con Katmandu al giorno per vivere qui spendo più o meno la stessa cifra sui 15-16 euro solo che Katmandu il grosso andava per l'appartamento e mangiare davvero non costa nulla qua in montagna al contrario spesso si dorme gratis o per davvero un euro però il cibo costa e un paragone il tè al limone caldo al mattino mi costa 10 volte di più che a Katmandu da 15 rupie a 150 e un piatto di chomien che sono tipo degli spaghetti alle verdure da 100 rupie passa a 600 rupie quindi qua in montagna costa tanto il cibo però per fortuna si risparmia sull'alloggio ah regà mi sa che ho preso un po' di sole oggi oh che roba siamo qui attaccati alla stufa e aspettiamo la cena madonna vedo l'ora perché sto piatto che ho scoperto mi fa impazzire adesso appena arriva ve lo faccio vedere ma quanto so belli raga ma quanto so belli quanto so boni e subito è arrivato anche lui ovvero patate e formaggio raga oggi ho saltato il pranzo quindi me lo merito raga buon appetito ciao a tutti bene, quindi tirando le somme sul trekking di oggi ho capito l'errore dove è stato nel senso che appena ho deciso di andare dritto per dritto, tagliare su quella collina per sbucare teoricamente dall'alto e vedere la lingua degli acciaio mi sono distratto e non mi sono reso conto che dovevo seguire l'altra traccia la traccia che seguiva il fiume, che sul telefono, sulla mappa del telefono c'era e che mi avrebbe portato a un'altra lingua di ghiaccio ho confuso le due lingue del ghiacciaio e mi sono fatto prendere un po' dal momento pazienza, pazienza non dico che ci ritorno perché sono 11 km a andare e 11 tornare e ho i piedi distrutti però, vabbè, dagli errori si impara, ecco, diciamo così e niente, la signora qui della guest house è molto carina mi ha detto che se torno l'anno prossimo con la mia fidanzata mi vuole sposare con il reddito tradizionale niente, domani ultima colazione e poi si torna verso la civiltà bene, 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 bene Grazie a tutti. Grazie a tutti.